Buongiorno a tutti, sono Luigi Naracco, se per voi siete benvenuti a questo nuovo video Allora, questo video è il risultato di una tenta conversazione con tipo una decina di persone Tra fan, amici, fidanzata Fidanzata Una figura misteriosa che si può vedere ogni tanto sul mio Instagram farsi foto a random E anche i colleghi di Youtube Che mi hanno consigliato di fare questa cosa Io a prescindere preferisco farci un video sopra per spiegare come funziona Tanto sinceramente non penso che funzionerà chissà quanto Però mi è stato consigliato di farlo in modo da aumentare il contenuto Ovvero inserire quel link che trovate qua in descrizione con scritto Se vuoi supportare, clicca qua Aria su un link di donazione Allora, come funziona questa roba? Cerco di non fare solo il tuo video di 20 minuti quando voglio fare qualcosa Che si potrebbe chiudere in 5 Semplice Mi è stato fatto notare che io non faccio video pull Non li faccio per nulla al mondo Continuo a non farli Quando 20.000 persone, non solo Mi dicono ma anche mia ragazza Mi ci dicono falli, anche se non ti piacciono, falli E tutto quanto E io ho detto, li potrei fare Mi hanno anche detto Per fare video pull, dato che comunque sei free to play E non riesci a fare video pull Come vogliono le persone che ci siano Perché alla fine Voi vedete io come faccio video pull Perché vedo male ogni tanto ne parlo in video altro Faccio una multi Vedo come va la situazione Dopo uno o due giorni ne faccio un'altra Poi forse ne faccio un'altra Forse non ne faccio Farmo, forse non farmo Casino totale Quindi mi è stato detto Prova a fare questa cosa Mettere questo link Te non obblighi nessuno Se qualcuno vuole lo fai Quello che arriva da questo link Lo puoi Utilizzare per fare video pull Se nel pull trovi qualcosa Porti più guide Una mano lava l'altra Tutto quanto il giro Ora Ho aspettato C'è proprio per un paio di settimane Ho chiesto consiglio anche ad altri youtuber Che hanno Un canale in cui parlano di queste cose Cioè fanno questi giochi E mi hanno detto di provare Io ho preferito Prima di tutto Trovare un modo Per impedire Ai ragazzini Di O meglio In realtà impedire non si può Però arginare La cosa che più mi avrebbe rotto Di meglio il pulsante di dotazioni Ovvero che eventualmente Un ragazzino di 12-13 anni Che mi segue Mi dà 1-2 euro Anche se fossero 1 euro Che non è una cosa Che mi aggraderebbe molto Infatti Piccola premessa Se siete Minorenni Fate finta Non esista quel link Volete supportare o altro Fatemi un commento Fatemi domande Seguite i video Non mi serve Che Date nulla Perché vi dico questo Perché Se non avete Entrate voi Non ha senso Che doniate a qualcun altro Che sia questo Anche il vostro Cattore di contenuti preferito Che sia anche una persona Che stimato altro No Prima venite voi Come persona Poi vengono gli altri Almeno in questo caso Non è caso in cui è meglio Pensare prima agli altri E non a se stessi Ma in questo caso Non è così Quindi voi Dovete Pensare prima a voi Poi Nel caso invece Abbiate un lavoro e altro E vogliate Il link è qua Come ho fatto però A provare a ridurre Il fattore Domini che donano Come vedete Un link Paypal Di solito I ragazzini Non dovrebbero avere Paypal Ora So che anch'io Quando avevo 15 anni E avrei riuscito Ad avere Paypal Tramite Unicamente Poste Payout Però Non è sempre così Quindi Dovrebbe essere Un qualcosa Che comunque Ridurrà Le possibilità Di questi Ragazzini Di poter donare Come se non bastasse Ho collegato Non all'account Nara Quoi Quello che era collegato A Twitch Ma il mio account principale Cosa comporta? Il mio account principale È sempre A Paypal Zero Perché io L'ho collegato Ma il saldo di Paypal È sempre Perennemente A zero Questo cosa Porta? Porta Totale Trasparenza Nel senso Iniziano ad arrivare I tizi Che rompono Dicendo Tutto Ti in realtà Non spendi nulla Di quello che ti arrivano Se mai arrivasse Donazioni o altro Basta fare un video Con me Sul mio account Paypal Per vedere Transazioni Che sono arrivate Direttamente In entrata E si vede tutto Perché da Paypal Almeno da quanto so Io Non si possono Cancellare Queste cose Quindi c'è Una trasparenza Totale Che è la cosa Principale Come funzionerebbe Però Siamo già a 5 minuti Figuriamoci Che non riuscivo A fare un video lungo Come funzionerebbe Questa cosa Se mai Ci fossero donazioni Verrebbero utilizzate Tutte Per pool Ma solamente In casi Di batch decenti Cioè Non vi aspettate Che se tipo Arrivano 10 euro Di donazioni Quei 10 euro Vengano utilizzati Nella prima batch Tutto per fare un video No Le batch decenti Sono i Dokkanfest Non tutti Non tutti I Dokkanfest tech Per un pochino Di tempo Non mi vedranno Tutti i tech Tra i N2 Tra i Golden Freezer E Trunks Mirai Ma Non vale La pena Oddio Per Golden Freezer Varrebbe la pena Però per un PC Salvo che vedo Che abbia rate Trupefacenti Non ha il minimo senso Anche se adesso Si potrebbe Mirai Ottenere cose Per l'ability chart Ma È un caso Comunque Comunque Altra cosa Da aggiungere Se non ci fossero Sconti Utilizzerei Le stone Dell'account Perché comunque Fino a prova contraria Di Japp Regala Abbastanza Stone Da poter fare Quel singolo Video al mese Pool Per Andare anche Voi incontro Quindi in realtà Non sarebbero Nemmeno obbligatori Al 100% Le donazioni Sono se volete Il programma del contenuto Perché io Ora come ora Ve lo dico Non c'è Il tempo Non c'è Non ci sono i soldi Per andare a investire Chissà quanto In docker Non pensate che Youtube Mi dia Chissà cosa Dopo nove mesi Di lavoro Forse a gennaio Se avessi problemi A non trovare Il gold leader Universale Senza cui Andare avanti nel gioco È una rottura Potrei fare Due shoppati Favi capire Se ci sono gli sconti Poi Solo se ci sono gli sconti Favi capire Il livello Di guadagno Di Youtube Presta poco Inesistente Ma è normale Se ve lo guadagnare Su Youtube Facevo Clash Royale L'ho detto Spesso Questo Quindi Loro mi hanno consigliato Di fare questa prova Io la faccio Poi Che Abbia Successo O che non abbia successo Non mi cambia Ho stato free to play Per oltre un anno di gioco Se non ha successo Continuo a esserlo Arriverà il momento In cui naturalmente Non potrò scolare All'infinito Quello lo so anch'io Ma Per ora A quel momento Non è ancora arrivato Tre gold leader Su 5 Ability chart 1 Ophelia Entra nel piatto di cibo Vuoi entrare Diretta in forno Ho capito Una volta c'è entrata Nel forno C'era il forno aperto Spento E la vedi Entrare là Una cosa Abbastanza inquietante Però nulla Questo video era Unicamente Per spiegarvi Come mai L'uscita di questo link Quindi Ripetendo Vi dico Vuoi fare una donazione Diete liberi di farla Se siete maggiorenni E avete entrate E tutto Siete minorenni Non voglio donazioni da voi Piuttosto Commentate Anche sto fatto di avere i like Non ho ancora capito Cosa servono i like In realtà Su youtube Io preferisco un commento Di una persona Che mi dice Gli errori nei video Le cose positive Nei video Che un like Che alla fine Non dice nulla Ho sempre detto Per dire Un commento Un like Poi Forse un giorno Scoprò che in realtà I like su youtube Sono tutto Potrebbe essere Potrebbe benissimo essere Ma ad oggi Non l'ho ancora capito Perché tutta la gente Chiede Centomila like Quarantamila like Trentamila like Davvero Magari Ditemelo poi Nei commenti Comunque Il video Finisce qua Già durante dieci minuti Che sono troppi Per me Per un video simile Può soltanto Non far apparire All'improvviso Il link Donazioni Senza Aver spiegato Quello Come funziona Tutto quanto Naturalmente Accetto benissimo Che questo video Avrà 20.000 dislike Della gente Che non è d'accordo Siamo persone E' normale Pensare diversamente Potete mettere Tutti gli dislike Che volete Non sono qua A dirvi di non farlo Se non siete accorsi Una cosa E sacrosanto Che Lo diciate Però Lasciate anche un commento Dicendo il perché Non siete d'accordo Almeno Un pochino di coerenza Quello che io chiedo sempre A quelle 1 o 2 persone Che ogni tanto Mettono un dislike E scrivete il perché Perché se non lo scrivete L'unica cosa Che mi viene in mente Sia È che Ovviamente Che siate inglesi Vedete un inglese Non capite nulla Dell'italiano Non vedete che Nel 90% dei video C'è la scheda Scritta in inglese E mettete un dislike Invece Se mettete un dislike Se siete italiani Almeno scrivete È l'unica cosa Che vi ho sempre chiesto Ma Vediamo Comunque Ripeto Link in descrizione Fate quello che volete Non ho messo Anche se era possibile Quanto Perché si poteva mettere Che poteva esserci un minimale Come preferite Detto questo Ci si vede al prossimo video Non vedete quando questo video esce Perché sta settimana E uscice Gotenks E dovete iniziare a preparare Gokukai Perché si Quello del governo Lo sapete È già uscito dopo una settimana Da Gotenks Quindi non ho tante belle speranze Ci vediamo al prossimo video E rimanete sintonizzati Se questo video Non esce Post 28 Per le info Sulla British Art Alla prossima Alla prossima